Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Aria di origine artica e quindi più fredda sta interessando in queste ore la nostra penisola, apportando un sensibile calo delle temperature e clima sempre più autunnale. Nelle prossime ore l'aria fredda dei Balcani continuerà ad affluire verso l'Italia, apportando anche piogge temporali sparsi lungo l'Adriatico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 20 settembre. Molte nubi già dal primo mattino sulla Puglia centro-settentrionale, con rovesci sparsi e localmente a carattere temporalesco lungo le coste. Sprazzi di sole sul Salento, ma con tendenza ad aumento delle nubi nel pomeriggio. Pomeriggio dei colori tardo-autunnali, rovesci a carattere sparso e aria frizzante. Inserate infatti ancora possibili rovesci sull'Appennino Dauno, Gargano e sull'estremità del Salento, mentre sul resto delle regioni migliorerà. Temperature ancora insensibili e calo, sia nei valori minimi che massimi, con aria frizzante e sensazioni di freddo la sera, minime nelle zone interne anche al di sotto dei 10 gradi. Venti forti dai quadranti settentrionali con crescente sensazione di freddo. E per quanto riguarda i mari, da molto mosso ad agitato l'Adriatico e lo Ionio, molto mosso invece il Tirrino. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo l'amico Antonio Di Girolamo per aver immortalato questa danza di fulmini verificata se nei giorni scorsi lungo le coste di Manfredonia, in direzione Gargano. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.